Una scoperta straordinaria nella biblioteca del Quirinale, i tesori della cavalleria raccontati da Giovanni Battista Tomassini. Queste sono opere preziose? Molto preziose, sono un vero e proprio capitolo della storia culturale del nostro paese. Questo abbiamo visto che è stato preso proprio da una teca. Esatto, questi sono gli ordini di cavalcare di Federico Grisone, è il primo libro dedicato all'equitazione che viene mai pubblicato a stampa, alla metà del Cinquecento. Questo invece ha una storia particolare? Sì, questo è un libro che fu acquistato dal presidente Luigi Inaudi, gli era stato proposto e lui chiese consiglio a Benedetto Croce dicendo ho scoperto che il Quirinale ha dei libri interessanti sui cavalli, mi hanno proposto di acquistarne uno e lui gli disse prendilo perché questo è davvero molto bello. Ma c'è stato un primato italiano nella storia della cavalleria, nei trattati sulla cavalleria? Senz'altro nel Cinquecento l'equitazione italiana era assolutamente la prima in Europa, i cavallerizi italiani erano richiesti da tutte le corte europee e non è un caso che i primi libri dedicati all'equitazione vengano stampati proprio nel nostro paese. Grazie. 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 Grazie.